buonasera amici ascoltatori e ben trovati da Carlo Bellotti allo stadio Stella Azzurra in Roma play out serie A della Lega calcio a otto sarà Traschetta del Pesce contro Ragnatela De Santis Valentini il pallone arriva ma sbuca un difensore che è lontana poi conclusione da lontano alta di poco ma che non ha impensierito Sabino da parte di piazza Traschetta che prova a rovesciare l'azione Loreti poi il tocco dentro il tacco e la risposta di Sabino miracolosa ma non è finita ancora il tiro tentato dalla Fraschetta precisamente da Loreti con la testa serie di batti e ribatti il pallone al limite dell'area ancora perde Paoli salto sulla traversa che occasione per la Ragnatela prova a sfidare il secondo intervento regolare secondo il direttore di gara allora riparte la Ragnatela dall'altra parte Belbrek col pallone portato il destro e 4-8 che blocca Visconti sbatte su Fatone ancora poi Visconti palla larga attenzione ancora la Fraschetta col destro tentato il palo che salva la Ragnatela che salva la Ragnatela vita Timperi ne ha 3 a 2 Timperi finisce giù non c'è il fallo continua a giocare Ragnatela Bruzikes sfiora il gol del vantaggio Visconti dentro cerca palla Timperi lo riceve adesso ancora Timperi in area di rigore Timperi il vantaggio della Fraschetta con Timperi 1 a 0 scambio si continua per il vantaggio ancora la Fraschetta Visconti dentro c'è Valentini il pallone proprio per Valentini e arriva il raddoppio della Fraschetta con il suo numero 10 Valentini lascia lì la sfera c'è largo incoronato che pensa alla conclusione spacca la traversa e poi c'è un'altra occasione sulla ribattuta si resta 2 a 0 ma che occasione tre uomini a comporre il muro di fronte a Sabino va Di Piero col destro Sabino con la manona in calcio d'angolo volto per un attimo attenzione a Ragnatela che adesso può trasformare l'azione da difensiva in offensiva attacca Bruzikes Gianlui Valdes poi invece calcia e accorcia le distanze la Ragnatela dei Santis 2 a 1 deviazione proprio di Chinagli ma ancora buona Valdes va via all'avversario ancora Valdes il cross sul secondo palo il tiro di Lotti e il miracolo ancora poi la conclusione di Bruzikes ancora la risposta la gran parata di 4-8 fischia l'arbitro la battuta col pallone salvato da Sabino sulla riga si continua dietro di Valentini arriva il fischio finale del direttore di gara vince la fraschetta del pesce 2 a 1 sulla Ragnatela dei Santis grazie alle reti di Timperi e Valentini e allora dalla Stella Azzurra per questa sfida è tutto il saluto di Carlo Bellotti grazie a tutti grazie a tutti